Iniziamo da Pescara, iniziamo con i risultati, rivediamoli per l'ultima volta in grafica. Il nuovo sindaco è Carlo Masci, 51,33%, al secondo posto Marinella Sclocco, 22,87%, Erika Alessandrini, 12,94%, Carlo Costantini, 6,35%, poi fuori dal Consiglio Comunale Gianni Teodoro, 2,62%, Stefano Civitarese Matteucci, 2,54%, Gianluca Baldini, 0,77%, e Mirko Iacomelli, 0,57%. Vedremo più avanti anche la composizione integrale del nuovo Consiglio Comunale, ma noi proprio con l'aula del Consiglio Comunale ci colleghiamo immediatamente in diretta, dove vedo una poltrona di sindaco e vedo chi è il nuovo sindaco di Pescara, non riesco a capire perché vedo Marina Moretti sulla poltrona del sindaco. Che sta succedendo Marina? Esattamente. Sono io il sindaco, almeno per tre minuti sarò il sindaco di Pescara, toglietemi questa soddisfazione, anche perché abbiamo accompagnato la nostra lunga diretta elettorale, abbiamo accompagnato anche l'avvicendamento di quelli che in realtà sono il sindaco uscente, il sindaco entrante, oggi però sono i miei assessori, li ho già ribattezzati, li ho voluti a fianco a me, non solo per fare l'uno gli onori di casa all'altro, che peraltro di casa lo è, ma anche perché si dessero quella che concretamente sarà una stretta di mano, ma che vorrei fosse una stretta di mano anche sostanziale, diciamo, anche nella continuità, pur nelle loro reciproche specifiche differenze, la continuità è rappresentata dal fare bene per la città di Pescara, cosa che Marco Alessandrini, dalla sua parte, ha pensato di fare, cosa che sicuramente penserà di fare Carlo Masci. Intanto vorrei sapere che assessorato vi siete scelti, lo chiedo al sindaco uscente Marco Alessandrini. Buongiorno a tutti, direi che, vista la situazione, le varie ed eventuali per quanto mi riguarda, credo, e poi insomma qui adesso stiamo facendo un po' di accademia, però è sempre un momento solenne questo, la proclamazione ufficiale dovrà richiedere i tempi della burocrazia, però è certamente un momento importante, perché come ogni cosa ha un inizio ed una fine nella vita, così le amministrazioni pubbliche si susseguono. Io sono qui, non certo a fare gli onori di casa a Carlo, che conosce benissimo quest'aula, ma per fare il mio in bocca al lupo, per dargli i miei complimenti, perché ha fatto sicuramente una grandissima impresa. Adesso, come ho ripetuto più volte, dopo la poesia della campagna elettorale scatterà l'implacabile prosa dell'amministrazione e naturalmente, insomma, è la vita ed è anche un po' un omaggio a Gian Battista Vico e ai suoi corsi e ricorsi storici, sostanzialmente. Comunque, il senso, naturalmente, poiché io non intendo la politica come una lotta quasi belluina, e che gli avversari politici sono tali, non sono certo nemici e auguro a Carlo tutto il meglio per la nostra comune città di Pescara, che entrambe amiamo, al di là, naturalmente, degli slogan elettorali che fanno parte del gioco. E allora, chiedo che assessorato si è scelto Carlo Masci e naturalmente chiedo anche, anzi, vorrei che ci raccontasse anche questo scambio proprio di battute con il sindaco Alessandrini, ma soprattutto perché mi sembra che sia anche espressione di un atteggiamento assolutamente moderato da parte di Carlo Masci. Io le vorrei chiedere, politicamente parlando, se il cammino che è davanti si presenta impervio perché lei è troppo moderato per qualcuno o no? Ma intanto, buon pomeriggio a tutti, grazie a Reteotto per questo servizio che fa, sempre molto puntuale rispetto alle notizie legate alla politica e in questo caso alle elezioni. Saluto il sindaco uscente con cui ho un rapporto da sempre cordiale e che ho avuto anche in questi cinque anni in cui lui è stato anche il mio sindaco perché è stato il sindaco di tutti i cittadini di Pescara. Stamattina mi sono scelto l'assessorato ai mercati perché sono stato sia al mercato di Largo Scurti che in quello di Via dei Bastioni dove c'è un problema serio a Via dei Bastioni. Ho parlato con gli operatori che aspettavano delle risposte dal comune e mi sono preoccupato di telefonare ai due dirigenti Vespasiano e Silveri che sono molto solerti e domani mattina il mercato in qualche modo riaprirà all'esterno con i gazebo perché è pronta la determina per l'assegnazione dei posti. Quindi sicuramente un passo avanti rispetto a quei problemi che ci sono. Poi banalmente direi che mi scelgo l'assessorato al mare perché ho preso un impegno con i pescaresi per la bandiera blu e comincio a lavorarci da subito perché penso che sia un obiettivo che Pescara merita. Sul discorso della moderazione io sono moderato nei toni ma molto determinato nelle scelte da fare perché Pescara ha bisogno di scelte molto importanti e io mi auguro di poterle prendere ovviamente con la mia maggioranza ma anche coinvolgendo l'opposizione, coinvolgendo i candidati a sindaco che sono stati eletti e da cui sicuramente potrò trarre qualche spunto interessante perché ho visto che anche nei loro programmi ci sono cose che possono essere attuate a Pescara e attuerò io e spero di avere sempre la loro collaborazione per il bene di Pescara. Allora l'insegna di questa collaborazione, intanto Carmine ti chiedo se hai domande da studio poi noi per il nostro specialino della sera continuiamo ancora a chiacchierare con il sindaco usciente e il sindaco entrante. Domande? Allora domande per Masci le avrò venerdì, lo invito ufficialmente nei nostri studi per la trasmissione del venerdì sera i fatti e le opinioni, ci vedremo nei nostri studi avremo un'oretta per approfondire i singoli argomenti, quindi voglio mollarlo il nuovo sindaco lasciarlo a riposo innanzitutto, meritatissimo, e al lavoro che lo attende in queste prime ore. Una domanda invece per Marco Alessandrini che si riferisce al suo futuro. Alessandrini continuerà la militanza politica, l'attività politica in qualche modo o farà l'avvocato da oggi praticamente? Allora, il direttore vuole sapere se Alessandrini continuerà la militanza politica o tornerà a fare l'avvocato lasciando la politica alle spalle? Questo l'ho detto un po' nei giorni scorsi, io penso che l'impegno politico, per come lo intendo io significa polis, città, e penso che mai vorrò essere un cittadino indifferente io sicuramente torno ad una dimensione professionale che ho abbandonato in questi anni per fare altro e cioè per adempiere a questo grandissimo onore che è fare il sindaco di Pescara dopodiché certamente continuerò a interessarmi della cosa pubblica e non farò mancare il mio apporto possibilmente costruttivo. Io chiudo solo facendo fare un saluto a Carlo Masci anche per ringraziare qualcuno chi è l'artefice, lasciamo da parte la politica, ma chi è il vero artefice anche di questa serenità ritrovata e di questo sogno, immagino, coronato? Ma intanto l'artefice credo che sia la vita, la vita ti insegna ad essere sereno perché poi sai che ogni cosa ha un inizio e una fine le cose importanti sono quelle a cui noi non pensiamo spesso come la salute e invece tutto il resto lo puoi gestire bene la salute non riesci a gestire bene e questa cosa me l'ha insegnata la vita e il ringraziamento a tutti i cittadini di Pescara perché sono stati veramente incredibili nei miei confronti in questa campagna elettorale mi hanno manifestato un affetto e un entusiasmo che poi sono continuati anche dopo in queste ore io mi rendo conto che non sono soltanto un sindaco che è stato votato dalla maggioranza dei cittadini di Pescara sono un sindaco a cui i cittadini di Pescara stanno dimostrando un affetto incredibile anche quelli che non mi hanno votato mi dicono era giusto così quindi questo è un segnale molto importante per me Allora, cari assessori procedete con la vostra stretta di mano e così chiudiamo il collegamento Bene, grazie, grazie a tutti voi grazie al sindaco Marina Moretti sindaco protempore speciale questa sera su Reteotto alle 20.40 con l'intervista affiancata ai due sindaci l'uscente e l'entrante